Le novità della fiera sono innanzitutto che la fiera riapre, riapre fra i vari appuntamenti anche con Sana e fra questi c'è anche Sana Tech. Di che cosa si tratta e perché è stato pensato e per cosa? Si tratta del primo salone per tecnologie, materiali, mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ma anche sostenibile. L'agricoltura biologica crescerà, ce lo dice l'Europa, ce l'ha detto stamattina anche l'assessore Mami in Emilia Romagna però ha bisogno di strumenti. Convertire un'azienda agricola professionale in pianura padana a biologico richiede formazione, richiede tecnologie, richiede macchine, richiede materiali, richiede sementi e tutto quello che è. E questo ancora non lo abbiamo in una fiera. E quindi l'obiettivo numero uno è lanciare un formato che chiaramente parte quest'anno ma che poi evolverà, che possa dare risposte anche agli agricoltori, agli addetti che hanno bisogno di soluzioni per fare meglio chi fa già biologico in maniera più efficiente e più produttiva per chi invece vuole avvicinarsi a biologico capire che strumentazione può avere a disposizione per fare questa conversione a bio.